Duplicare il dato probatorio, dicono in procura Trani, anche eventualmente triplicarlo, per avere certezze delle analisi sulle piante ornamentali della specie dodonea viscosa purpurea risultate infette a dicembre scorso da xylella fastidiosa in un vivaio della periferia di Canosa di Puglia. Per questo, nell'ambito dell'inchiesta aperta con l'ipotesi di reato di diffusione colposa di malattia delle piante, è stato nominato un consulente. Dovrà accertare se ci sia davvero la patologia, l'eventuale sua diffusione e l'eventuale profilo di colpa. Se si sia trattato c'è di una condotta superficiale del proprietario della serra, oppure se ci siano profili di vulnerabilità interne al sistema. Le indagini, infatti, stanno facendo emergere la difficoltà di tracciare il percorso delle piante dall'acquisto all'arrivo nei vivai. I carabinieri forestali stanno continuando ad acquisire documenti presso l'osservatorio fitosanitario della regione. Al momento non ci sono indagati. Le piante malate, lo ricordiamo, furono eradicate e poi distrutte per evitare i rischi di propagazione dell'insetto vettore della sputacchina. La preoccupazione rimane alta. Il focolaio di Xilella fa temere la diffusione dell'infezione agli alberi di ulivo nella zona più produttiva della Puglia. Secondo quanto emerge dall'archiviazione dell'inchiesta dalla Procura di Lecce, non c'è chiarezza scientifica sulla conoscenza del fenomeno, sulle cause e tanto meno sui rimedi. Di Xilella si parla dall'autunno del 2013, ma i primi essiccamenti degli alberi di ulivo nel Salento risalgono almeno a nove anni prima. Significa leggere le carte che gli interventi delle istituzioni, della politica e della ricerca si sono dimostrati assolutamente disarticolati, tardivi, non consoni ad una corretta gestione dell'emergenza. Gli inquirenti della Procura di Trania c'erano dunque sui tempi.